Stefano Filipponi, direttore del Museo degli Innocenti, un museo un po' particolare perché racconta 600 anni di un'istituzione che si è occupata sempre di bambini ed è cresciuta nel tempo con questa funzione, quindi è un museo pieno di storie che anche grazie alla tecnologia siamo riusciti a raccontare in un modo, credo, spero, coinvolgente e affascinante per diversi tipi di pubblico. Quindi venendo da un museo così, una giornata come quella di oggi è stata molto interessante e soprattutto ho apprezzato il continuo rimando dei relatori al rapporto fondamentale con la creatività, con il contenuto che si vuole raccontare e con l'obiettivo, quindi un uso sano della tecnologia come strumento, ecco, non come fine che mi sembra un buon punto di partenza.